questa sera vi andremo a presentare un cocktail che è una rivisitazione dello spritz si chiama special visto spritz metteremo una riduzione di vermouth ed angostura e spumante d'asti a riempire il boston aggiungiamo ancora un po di vermouth e andremo a schegherare versiamo il prodotto schegherato e andiamo a colmare il bicchiere con del prosecco una piccola agitata la taggiamo in questo modo spritzando la prima dove faremo aggredire ancora degli oli essenziali andiamo a guardare una piccola ciliegina solo da bene grazie a tutti